...to il momento... Murakami ha avuto la squadra di Murakami... ...freescaping 16.47... ...la seconda del best season... ...Gapten Murakami Kanako... ...la giugna di世界 Junior! ...la giugna è la squadra... 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 ...e' uno score di 55.43... ...freescaping 110.18... ...e' quindi ha superato sicuramente... ...il punteggio che aveva avuto... ...a Nagoya... ...che era fatto di 94.06... ...con 164.93... ...si porta al comando... ...e' adesso davvero... ...comunque risulta... ...score... ...sbocca... ...in place... ...comi socc... ...iccer... ...qult subito... ...in Nelson... ...ICcer really... ...that... ...se춰... ...seccione... ... scholarly... ...onnio... La scuola è 178.55, e la scuola è in la prima volta. La scuola è 187.52, e la scuola è la scuola è la scuola. La scuola è la scuola è la scuola. 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 è la scuola. La scuola 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 è la scuola. La scuola. La scuola è la scuola. 182.550、白岩に次いでこの時点で2位に飛び込んできました。